Buonasera, buonasera a questa serata di dirette su Liberi.tv, oggi è 26 ottobre 2012, cominciamo appunto la virgola con un piccolo spazio come sempre di commento, sfiorando un po' un argomento che abbiamo già trattato e che siccome è in evoluzione, ho ritenuto appunto, essendoci in settimana alcuni aggiornamenti importanti, di riprendere perché in qualche modo secondo me ci sono un andamento un po' allarmante. Stiamo parlando della riforma della legge sulla diffamazione, in questa settimana dopo le varie analisi che abbiamo avuto, con le trasmissioni dedicate, con l'apporto di ospiti che abbiamo avuto come Ivan e Ottvos, che abbiamo avuto la settimana scorsa come ospite, peraltro poi quest'argomento vede anche interessata a Liberi.tv, come poi vedremo, che porne alla sua minima dimensione mediatica l'ambizione di svolgere un servizio di informazione, di approfondimento in qualche modo, ci proviamo. In questi giorni si sta consumando l'iter parlamentare di riforma della legge appunto sulla diffamazione, un'iter che sta appunto muovendo in Senato. Qualcuno aveva detto che l'attenzione a questo tema si assorta improvvisamente in modo urgente, in occasione e soprattutto sulla scia del caso Sallustri, che ormai conoscete bene perché abbiamo parlato più volte. Io comincio a non essere più tanto convinto di questa cosa. Il caso Sallustri aveva portato alla ribalta l'enormità della possibilità di condannare un giornalista, peraltro però messo in controllo il caso di Sallustri, alla detenzione per ciò che scriveva. Una possibilità prevista per legge, una legge assibilata dal Codice Rocco nel nostro ordinamento che ha avuto appunto questa applicazione così dura, sono stati scarsi gli episodi e appunto uno di questi è stato il caso Sallustri in tutti questi anni, è una legge del 48, è stata assimilata al Codice Rocco, quindi ancora precedente. È stato notevole il clamore, sì che se l'attenzione del legislatore avesse preso le mosse da questa condanna sarebbe lineare, per lo meno ragionevole penso, verificare in modo pressoché trasversale e univoco che si procedesse verso una razionalizzazione, una mitigazione della punibilità penalistica, essendo sotto il clamore sul fatto che la detenzione combinata appunto a Sallustri è una cosa un po' eccessiva. Però nei giorni scorsi è emerso altro. C'è stato un progetto appunto, un disegno di legge appunto che è stato presentato, un andamento dei dibattiti nelle relative sedute parlamentari che mi ha fatto, mi fa pensare più a una guerra tra bande, tra bande organizzate in modo trasversale che hanno messo in atto un andamento un po' delirante. I lavori peraltro sono stati sospesi dal presidente di turno Kiti, se non sbaglio ieri e riprenderanno lunedì. Ma qualcuno addirittura è arrivato a parlare di una sospensione necessaria per evitare che si organizzasse l'astio nei confronti dei giornalisti. Parole di sconforto vengono anche dai due relatori di maggioranza, Berselli e della Monica. Insomma, rapidamente, grazie al sito del messaggero, vediamo un pochino l'andamento appunto ondilago e un po' delirante di questa discussione, di questo dibattito parlamentare. C'era un progetto che si era un disegno di legge, quindi un accordo in qualche modo blindato in teoria che appunto avrebbe dovuto eliminare il carcere per i giornalisti e ne dimezzava le pene pecuniarie. Pareva che mancasse soltanto una ratifica nell'aula per appunto arrivare a questo primo passo, appunto per avere questa riforma. Però poi appunto accadono una serie di emendamenti, si ampia l'obbligo di rettifica, dalle testate giornalistiche, alle testate web che hanno anche un cartaceo. Poi qualcuno ha proposto anche una, praticamente l'obbligo di rettifica e tutto ciò che comporta poi l'obbligo di rettifica se non l'applicato o meno, anche a qualsiasi altro sito web di informazione. In qualche modo ho pensato anche a LibriTV. Poi ci sono altri emendamenti che hanno sconfessato l'accordo che c'era, che era mirato a sopprimere appunto nel caso di Sallusti, prendendo le mostre al caso di Sallusti, praticamente la restituzione dei contributi all'editoria che aveva percepito un giornale che avrebbe pubblicato appunto una notizia diffamatoria. Poi addirittura nella discussione del Senato, che ho potuto seguire in parte per la Senato Radicale, si è citato anche Enzo Tortora, c'è stata una dura polemica sull'abbassamento delle multe che erano combinate. Qualcuno ha parlato di multe da discount, in questo caso appunto Rutelli, dell'API. Una guerra tra i bambini, sono saltati tutti quanti gli accordi, tanto che alla fine si è arrivato, in questi casi si arriva in extremis a chiedere appunto l'applicazione del voto segreto. I senatori, appunto venti dei senatori servivano per fare questa richiesta. In questa occasione qualcuno ha fatto delle dichiarazioni, anche di una certa ragionevolezza, per esempio come Donatella Poretti, che ha firmato appunto per questa richiesta di voto segreto, che appunto aveva dichiarato già da tempo che in occasione di questa riforma si potrebbe arrivare addirittura a eliminare ed approgare l'ordine dei giornalisti, anche quello un retaggio di, come abbiamo avuto l'occasione di sottolineare, un retaggio di stampo corporativistico. Secondo alcuni leghisti questa riforma non vedrà mai luce. Un giurista abbastanza noto, che è preoccupato, ha parlato di pressappochismo, di approssimazione, così anche Grosso, un altro giurista. Quindi praticamente non ci sta un accordo tra le forze politiche, relativamente a un disegno di legge che pareva, o un progetto, un disegno di legge che pareva fosse suggellato da un accordo. Trasversalmente pare che sia sorgendo una sorta di partito, di gruppo anti-giornalisti. quando in realtà poi una cosa, come abbiamo già anche detto nelle trasmissioni con cui abbiamo parlato, il bene che viene violato in caso di diffamazione è un bene che può essere riparato economicamente e anche con processo rapido. Quindi tutto sommato una direzione lineare da quella che ci si aspettava e che era generalmente, soprattutto prendendo le mosse dal caso Sallusti. Comincio a pensare che il caos evidenziato da questo dibattito su questo disegno di legge sia un pochino un segnale di un periodo elettorale, di un periodo elettorale che è sempre più vicino, ma non solo. Potrebbe anche essere un colpo di coda che da certi ambienti presenti in ogni forza politica si cerca di sferrare appunto da parte di un certo politico che sente sempre più vicino alla scadenza e non solo la scadenza elettorale. Una scadenza probabilmente anche di legittimazione, una scadenza nel senso che è una perdita della capacità di cogliere e quindi di affrontare una realtà che in Italia è in mutazione. Una scadenza in certi casi anche della pazienza con cui sopportare i molti attacchi legittimi e opinabili da parte della stampa di ogni ispirazione. Insomma, quello che io penso che questo procedimento, questo dibattito un pochino abbia evidenziato, che siano un po' le ultime luci di antichi fasti che lampeggiano prima di spegnersi definitivamente. Penso che in un clima tale utilizzare come epitaffio una legge che regolamenta un settore così importante, che incide sulla libertà di stampa, non sia corretto, non sia utile. appunto in questo caos poi ovviamente passano anche in secondo piano delle schegge, se così possiamo parlare, chiamarle schegge di ragionevolezza, come appunto le dichiarazioni notate, don della Coretti, ma in ogni caso la preoccupazione per una classe politica che non riesce a stabilire neanche come andare a votare nel prossimo appuntamento elettorale, che emette i suoi rantoli per regolamentare una questione così importante, appunto è una preoccupazione che c'è tutta. Vedremo quello che accadrà, speriamo che accada meglio, ma non è neanche detto. Nel frattempo passo con una certa rapidità a illustrarvi il paninsesto di oggi, che non con poche difficoltà abbiamo cercato di mettere in piedi. Allora, il paninsesto, adesso me lo apro un attimo soltanto, avremo ovviamente lo spazio curato da Riccardo Cristiano che intervisterà Giancarlo Calciolari, un attimo soltanto quello devo aprire perché non l'ho aperto prima, purtroppo, e avremo un'intervista a Giancarlo Calciolari, allora, purtroppo gli strumenti tecnici non agevano in questo momento. Allora, alle 20.45, appunto, conversazione con il nostro psicanalista Cuoco, nostra colonna di Liberi.tv, protagonista appunto delle trasmissioni di Liberi.tv. Alle 20.15 avremo un appuntamento molto interessante, io ritengo, per voci transnazionali, avremo appunto un report dall'Iran, uno spazio, diciamo, nel globo che non abbiamo ancora preso in considerazione nelle nostre voci transnazionali e condurrò io una conversazione con Esmail Modess, che è portavoce dei laureati iraniani in Italia. E ci farà appunto un po' un report, ci darà della situazione in Iran, situazione riguardo alle libertà, alla non-democrazia, all'applicazione e al rispetto dei diritti civili. Alle 21.45, Spazio Life, ma la testa animalista è davvero peggio della sinistra, così intitolato, lo spazio Life è il nostro spazio che viene condotto come di consuetudine da Giovanna Devitag e ci sarà appunto una conversazione condotta da Giovanna Devitag con Barbara Balsamo e Leonardo Caffo. Previtiamo verso le 22.15 di chiudere le trasmissioni sempre se non abbiamo problemi di sorta. Detto questo, io ricordo, come ogni volta, che Libri.tv è un'associazione che si autosostiene e sarebbe molto utile che vi iscrivesse per darci e darvi la possibilità di esprimervi. Ringrazio per questa serata la regia che viene curata da Donato Volpicella e a cui restituisco la linea per poi offrirvi lo spazio a tavola con Giancarlo Carciolari. Grazie e a tutt'ardi.